È stato rinviato a giudizio l'uomo che a maggio 2023 colpì un infermiere del 118 che lo stava soccorrendo, a rappresentare l'infermiere e l'avvocato Stefano Buricchi che aveva fatto ricorso contro la richiesta di archiviazione. L'aggressore aveva colpito con un pugno alla spalla l'infermiere, un 43enne, mentre lo stava soccorrendo. Aveva anche provato a colpirlo con una bottiglia e lo aveva minacciato. Ad esprimere soddisfazione per la notizia del rinvio a giudizio è Claudio Cullurà, segretario del NURSIND di Arezzo, sindacato delle professioni infermieristiche. Come sindacato, spiega in una nota, siamo da sempre a fianco dei colleghi aggrediti o minacciati. La richiesta di archiviazione avrebbe di fatto legittimato qualunque atto di violenza verbale o fisica nei confronti del personale sanitario. Quello delle aggressioni è un tema importante che non deve essere sottovalutato e che ha bisogno di tutta l'attenzione non soltanto da parte del sindacato ma anche da parte delle istituzioni.